Buongiorno e ben ritrovati a martedì 17 novembre, ieri sera il presidente Luca Zaia, ospite a Ring, abbiamo ricevuto una valanga di messaggi, grazie davvero, tante cose che abbiamo affrontato. Poi c'era nella seconda parte un'esclusiva anche qui con il ministro Sergio Costa, ministro dell'ambiente, che ha parlato di bonifica Marghera, dando notizie del famoso intervento della via su della votazione di impatto ambientale all'interno del ministro dell'ambiente, questa sorta di agenzia che deve valutare l'ampliamento, ma non si può più chiamare ampliamento, il master plan per l'aeroporto di Treviso, sì o no, qualsiasi risultato dia lo accetteremo e speriamo che così accada perché negli ultimi volte questa valutazione evidentemente non piaceva al ministro e ha rimandato indietro la stessa valutazione alla commissione, ma è importante quello che ha detto Luca Zaia, ora arriviamo all'apertura dei giornali, per esempio il Corriere del Veneto sceglie il tema dei Covid hotel, la lista veneta con il rischio, lo ha detto Domenico Orcuri che vengano requisiti questi hotel perché ancora non c'è una lista, dovrebbe arrivare oggi di un Covid hotel per provincia e quindi l'importante è che non si debba passare appunto alla fase un po' più coercitiva anche per gli imprenditori veneti. Ieri appunto Zaia ancora Ring ha provato il selfie test, questo autotest per il quale Crisanti dice una follia perché si perde il tracciamento, voi immaginate uno che è positivo e poi va in giro, non lo dice a nessuno. C'è un piccolo dettaglio però, quante multe sono state elevate in questi mesi proprio perché uno pur sapendo di essere positivo col tampone molecolare comunque se ne andava in giro. Certo perdiamo un tracciamento o una tracciabilità dei nostri sistemi informatici sanitari, ma allora se io mi faccio il test e mi registro su una piattaforma come dovrebbe essere previsto rientro nelle statistiche se è questa la preoccupazione di Crisanti, ma sappiamo che Crisanti se ci può mettere una buona parola lo fa di sicuro. Ospedali 15 giorni al collasso, questa è un'apertura però sul fronte nazionale con l'appello dell'ordine nei medici nazionali, in molte regioni il sistema va in crisi e i ricoveri non rallentano. E poi l'ultima cosa che vi dico, questa sera non ci sarà a Ringa l'ex ministro Lorenzo Fontana per impegni e questo ci dispiace davvero, ma di lui si parla molto lo sapete in queste ore, ci arriveremo tra poco, lascia la segreteria della Lega, il Veneto lancia il test fai da te, il gruppo Gedi, la tribuna è l'unico che insomma sceglie questa che era la cosa più eclatante nella giornata di ieri e poi in prima pagina mettono Don Abramovic che celebra la messa negazionista per forza nuova, così dice il titolo. Allora andiamo al presidente Zaya che ieri sera ha detto una cosa, tra le altre commentando l'ulteriore vaccino che arriva o arriverebbe insomma nei prossimi mesi, in Veneto non sarà obbligatorio, per quanto ci riguarda almeno noi in Veneto il vaccino anti-Covid non sarà obbligatorio, ha detto Zaya a Ringa e questo è un passaggio molto importante. Per quanto concerne il ministro Costa, ministro dell'ambiente, ha detto FAS bene ha fatto il Veneto, obiettivo zero come il Veneto per tutta Italia, dovrebbe arrivare questo intervento già da un collegato alla legge di stabilità quindi nelle prossime settimane, tutto il resto d'Italia come il Veneto obiettivo FAS zero e poi è stato firmato anche ha firmato 172 milioni di euro per le bonifiche di Porto Marghera a Marghera, questo è un dato molto importante, oggi lo riprenderemo nei telegiornali e lo ha annunciato ieri sera il ministro. Fontana, cosa succede di Fontana? Ieri aveva detto guardate che non mi sono dimesso, abbiamo un sms, uno scambio di sms, è stato interpretato male, io non mi sono dimesso, è vero, però diciamo già lascia intendere questo orizzonte e quindi che farà Fontana? Ora c'è tutto il toptonomi, il senso di quello che è successo lo potremo, la natura, lo potremo capire dal profilo di chi sostituirà Lorenzo Fontana perché se è una persona magari un po' avversa, molto salviniana, molto parlamentare, molto poco veneta, meno veneziana, è chiaro che allora sarà una mossa quasi per andare a coprire anche questi ruoli da parte di Salvini e cercare di guidare, etero guidare il Veneto e la Liga Veneta. Comunque si fanno già i nomi, mi sembrano più calzanti quelli che leggiamo sul Corriere del Veneto, cioè Stefani che non è l'ex ministro ma è Alberto Stefani, un giovane parlamentare, il senatore Andrea Ostellari, Padovano, oppure appunto il trevigiano Mario Conte, sindaco di Treviso ma ha un ruolo anche nel lancio e allora potrebbe essere poco compatibile quello istituzionale con quello politico, ma mi sembrano tutte fregnacce, poi quando sa da fare si fa. Il gazzettino mette tra gli altri, dopo aver tirato fuori un po' l'analisi di questa storia con Alda Van Zan, Tomaello, giovane leghista veneziano che doveva, era in odore di ruolo anche in regione, quindi a Zaia piace ma in realtà poi se lo prende Brugnaro vice sindaco, quindi ci sono un po' di nomi che si stanno leggendo. Fontana dice non abbiamo perso la guida, non è Salvini che mi ha fatto fuori, insomma da tutte le sue interpretazioni, ma una sola è la verità, lo vedremo, chi sarà il futuro segretario. Per ora non si è dimesso. È il giorno in cui le regioni si riconfrontano per quanto riguarda i famosi colori, ieri Zaia ha detto è come il bimbi, cioè tu metti dentro tutti gli ingredienti e poi frulli e non sai cosa ne esce. Federico ha detto più o meno la stessa cosa, non sappiamo ancora l'algoritmo. Intanto De Berti, l'assessore De Berti è positiva, dice di averlo preso da alcuni fogli di carta, è veramente folle, insomma come potete immaginare quello che accade con questo virus, quindi molto attenta alla mascherina a distanza, ma mi hanno passato delle carte, l'unica spiegazione che mi do è di averla presa da quello. Il Patriarca di Venezia sul Corriere del Veneto temo il Natale a porte chiuse, oggi c'è una fatica a riconoscere il noi rispetto all'io e la messa della Madonna del Saluto, ve lo possiamo dire, sarà in diretta su Antena 3 e quindi questo è un dato importante. Poi sul gruppo Gedi il senatore De Poli sui ristori, che non andrebbe alla zona gialla, il titolo è cannato, non è così, i ristori vanno anche gli imprenditori baristi e i ristoratori delle zone gialle ma vanno in una quota minore, allora siccome siamo gialli plus bisogna fare come la Germania, più soldi come nelle zone arancioni, deve essere ristorata una quota percentuale della perdita di fatturato e non dei soldini che arrivano semplicemente da Roma. Bene, è tutto, ci vediamo stasera a Ringa alle 21.05, abbiamo capito Lorenzo Fontana non ci sarà, ce ne faremo una ragione, troveremo qualcun altro e poi sul sito ferdinandovarino.it Ciao, buona giornata.